Ciao a tutti ragazzi, benvenuti da Sol, dal video, cioè, ma come da dei, dei sbazze, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai in veloce tutte le cose possibili, pensi a vita e sua vita ed è il nome della ricerca della vita. Hai perso la famiglia, Sida, e persino la vita di tuo padre, Detective Sida. Hai perso la salute, quello ci riprodite che avevi un petto, ma non sei ancora arreso, vero? Ora scopriremo se riescerai a superare la tua occasione. Senza dubito che ti ricordi cosa ti ha toccato la bacetta. Della prova rimasta tu e il genio, una dei miei primi test. Ecco cosa cede, se perdi... Ribatti le cos'è e segui, o resta seduto e aspetta che ti faccia i pronetti. A te la senta. Dove sei, Gessa? Non giocherò con te, non lo voglio. Non giocherò con te, non lo voglio. A te la senta. Ah, 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 ah! Ah, spirituosa. Vabbè, stai zitto. Stai zitto. Mi sono fatta male. Ma che ne frego, adesso la... Lo so che schermo. Ah, quattro. Se. No. Allora vuol dire uno. No. Che cavolo ne ho detto, io non lo voglio. Quattro, tre, sette. No, non è... Perché prima me ne ricordavo. Qualcuna aiuti sono intrapolato. non riesco a riuscire si lui ma cosa hai fatto hai bisogno di coborare qualcuno per uscire ma via di effetto tra le porte si apriranno devi prima trovare un cedro da vita se sbloccare il caneta e nel bombeletto ho ricordo di fruizzi e coesioni dentro dei poletti ora dettente scavare i rifiuti degli altri così come hai usato gli altri della stanza e se uno fallisce le bombe della stanza lo spolletteranno ti consiglio di spiegarle il la la il non è che questo lo è lì ma devi iniziare a prendere il cuore non so, non so, non so, non so non so, non so, non so 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 sottotitoli, vabbè lo sapevo sei una bella cisata ti farai male, cammina sui beretti le mie scappe non ti do dicendo ok facciamo lentamente 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 piano eh sì così va bene 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 non so ok non so non so non so bene ok voglio quella chiave no no non ce l'ho e lo spiro c'ha a te accidenti per la madonna usa quella violenza delle botte perché pensa che vuole trovare la chiave e per gli darà quella trappola oh per la madonna accidenti che spalentoso è terribile accidenti mio dio oh no ho sbagliato la strada vabbè non importa tutte le persone peraccia la vita quando si riesce a lottare e salvare vabbè tutta la vita credo che loro hanno dovuto farlo ti mostro la possibilità della morte e sacrificio che devono fare per la per restare vita vediamo che casino farai quando avrà il momento prezzerà la tua vita dell'anno 3 aprile c'è qualcuno là fuori? io no c'è qualcuno là fuori? io non te te donna se ma visto ragazzi lei fa la se vi prego a qualcuno mi sente? si te 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 arriverà presto questa è la prima vittima della sua della sole doveva riuscire e sentirla ma sotto effetto su superantemente te te conosce le regole del gioco che succederà se non libera del tempo nascondi della chiave e ce la succede vittiamo se te te è in grado di proteggere tutti te 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 te